Primo giorno di scuola elementare, un'emozione unica per i genitori che vedono crescere i propri figli e per i bambini che si preparano ad affrontare una nuova esperienza e a conoscere nuovi compagni. Ma non è così per tutti, lo dimostra una storia che è arrivata addirittura davanti a un giudice. Una coppia in via di separazione non è riuscita a mettersi d'accordo sull'inserimento del figlio a una scuola elementare della città. E così una mamma piacentina avrebbe falsificato il consenso del marito per iscrivere il figlio a scuola. finendo a processo con l'accusa di sostituzione di persona. Secondo l'accusa, al momento della compilazione del modulo messo a disposizione online dal Ministero dell'Istruzione, si sarebbe sostituita al marito nel dare l'assenso all'iscrizione del figlio a una scuola elementare. La donna è difesa dall'avvocato Claudio Bordoni, mentre il marito, parte civile nel processo, è difeso dall'avvocato Roberto Bruzzi. Ieri di fronte al giudice Gian Andrea Bussi è stata ascoltata come testimone la preside della scuola che ha spiegato la procedura e il trattamento dei moduli che i genitori compilano online.